FEMMATI! Un consiglio? Un monito? Una minaccia? Tutte le volte in cui ci si trova di fronte a questo imperativo, esiste sempre un'alternativa. Ma la scelta, qualsiasi essa sia, può cambiare le nostre vite. Succede a Carol Verbani, avvocato impegnato nella ricerca della verità su un affare di ecomafia che sconvolge il mondo politico di Pavia. Succede ad Angela Basileva, la donna che arriva in coma all'ospedale Sant'Andrea di Livorno in seguito a un incidente stradale. Succede anche a chi vive nelle nuove terre dei fuochi del nord Italia, dove si muore senza trovare giustizia. Finché un giorno qualcosa cambia, grazie al coraggio e alla determinazione di chi non si ferma di fronte a un assassino, indagando su una scomparsa e restituendo un'identità a chi l'aveva perduta. Attraverso le storie di molte vite quotidiane, il dramma di chi cerca risposte che non ha mai avuto, avventura, suspense e lo sgrettolamento dello scudo protettivo che ha sostenuto la finzione di chi non trova il coraggio di affrontare le proprie debolezze, Fermati alza il sipario su realtà che, in modo analogo, sono proprie di molti luoghi d'Italia. Note biografiche dell'autrice, lette da Andrea Mazzanti Consuelo Terrin è nata il 19 luglio 1970 a Venezia, dove attualmente vive. Laureata in lettere all'Università Ca' Foscari di Venezia, giornalista professionista, è confermati alla sua seconda pubblicazione. È stata cronista di giudiziaria del Corriere del Veneto e collaboratrice del Corriere della Sera. Proprio nelle aule del Tribunale di Venezia è maturata l'idea di scrivere un romanzo su una piaga del nostro tempo, quella del traffico illecito dei rifiuti e delle terre dei fuochi del nord Italia. Grazie. Grazie.